Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione serale del Tg di Irpinia News. Apriamo il Tg con Exisochimica, un ex operaio della fabbrica di Piano d'Ardine, ricoverato in gravi condizioni presso il Moscati di Avellino, ma vediamo il servizio per i dettagli. L'amianto killer dello stabilimento dell'Exisochimica continua a colpire. Antonio Solomita, velinese 56enne di San Tommaso, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione del Moscati. L'uomo ha avuto un arresto cardiaco, ma presentava anche complicazioni polmonari. È probabile che i problemi cardiaci di Solomita siano dovuti a patologia pregressa collegata alla asbestosi. L'uomo è grave, intubato e ventilato all'ospedale. Il sito della fabbrica di Piano d'Ardine, in cui venivano scoibbentate le carrozze dei treni, è ancora sotto sequestro, non è stato inserito nei siti SIN. Bisogna concretizzare anche quanto messo in campo per gli ex dipendenti, ha commentato Nicola Brate, ex operaio dell'Isochimica. Parliamo di vite umane, si tratta dell'ennesimo caso, ma non sarà l'ultimo. Ritorniamo in studio e ci spostiamo a Sperone, perché stamattina è stata sottoposta a sequestro un'area adiacente al cimitero. All'interno sono stati ritrovati rifiuti, casse e anche lapidi. Passiamo poi ad Avellino, poiché stamattina serrande chiuse all'Ipercoppa. I 250 operai protestano, ma vediamo il servizio. Le lascio immaginare lo stato d'animo dei colleghi di Afragola. Loro sentono già l'odore della busta del licenziamento. Per noi si parla di 18 lettere di mobilità, ma non siamo sicuri. Quindi è una partecipazione che chiediamo all'azienda. Noi chiediamo a Ipercop, Tirreno, alla nostra cooperativa, di muoversi per far sì di recuperare. Si può fare, la crisi c'è per tutti, tutti stiamo vivendo un momento di grave disagio economico, però sappiamo che qualcosa si può fare. Ritorniamo in studio e l'ultima notizia da segnalare è la visita dell'ambasciatore ucraino ad Avellino presso la prefettura, ma sentiamo l'intervista rilasciata al microfono di Rosa Iandiorio. La prima cosa che può promuovere l'integrazione della comunità ucraina qui è un buon comportamento degli ucraniani a questo territorio, è la prima cosa. La seconda cosa è la relazione, i rapporti tra la gente e il popolo ucraino qui con gli italiani. terza cosa è con l'autorità, perché io voglio che la comunità ucraina partecipe a tutta la vita di questa regione. Da parte mia è davvero tutto, linea al Tg Sportivo. Benvenuti ad una nuova edizione del Tg Tirpina News, calcio in apertura del nostro argomento sportivo con le dichiarazioni lasciate in sala stampa dal difensore dell'Avellino Armando Izzo. Ascoltiamo uno stralcio dell'intervista. Da primo giorno ho visto un... diciamo... non stato pieno come quest'anno, ma sentivo un calore forte. perché io ben 12 anni fa venivo allo stadio già, quando fu un Avellino Napoli, venivo con mio padre allo stadio e non mi credevo che un domani giocassi con questa maglia d'osso. Queste dunque le parole di Izzo. Prima di chiudere una notizia di calcio minore, la Bisa Cese impone il pari alla Bisa Ariano e raggiunge il Nusco ai sedicesimi di Coppa Italia di Lettanti. I granati allenati da Bozzi incontreranno i partenopei della Marianese, mentre il Nusco se la vedrà con i salernitani del Faiano, avversari entrambi i militanti nel torneo di eccellenza. Bene, prima di chiudere, io vi ricordo l'appuntamento domani in edicola con il Bianco Verde, da Claudio De Vito e dalla redazione di Il Pena News, l'augurio di una buona serata. Grazie per la visione!